Ciao a tutti ragazzi sono Ciccio di Lelch Channel Adesso è appena uscito il nuovo brawler O se sta per uscire Eccolo qua, diceva arrivata a 0 secondi Tra poco, eccolo qua Adesso è disponibile, è uscito Sono 82 E adesso noi chiaramente cosa andremo a fare Con i crediti di Spike Andremo a sbloccarci Clancy subito Eccolo qua E ecco qui Clancy Subito appena uscito E siamo a 20 brawler mitici su 26 E leggiamo la descrizione Clancy sembra davvero determinato a fare finta Di essere un crostaccio per il resto della sua vita Nessuno può fargli cambiare idea A meno che anche noi gli ordini di farlo Ma una cosa è certa Farebbe qualsiasi cosa per i suoi commilitori E qui Spike comunque siamo a 1540 Su 3800 Ma adesso abbiamo già Clancy Ci mancano sempre 10 brawler Come quelli che ci mancavano prima Ciao a tutti Ciao a tutti